Le persone famose hanno la reputazione di voler eccellere in tutti gli aspetti della loro vita, dai vestiti che indossano alle auto di lusso che guidano. Naturalmente questo si estende anche a dove vivono. Dopotutto che senso ha vivere in una casa ordinaria quando si ha la possibilità di vivere in una casa straordinaria? Gli attori famosi spendono milioni di dollari per vivere come reali in case che sono più simili a castelli, con servizi che farebbero arrossire i reali. Ecco 5 delle residenze di attori famosi più costose del mondo. Will Smith e Jade Smith La costruzione di quella che sarebbe diventata la casa di Will Smith e sua moglie a Malibu, California, è iniziata nel 2003, ma la casa non è stata immediatamente abitabile fino al 2010. Quell'anno la coppia di stelle lo ha acquistato per 42 milioni di dollari o quasi 50 milioni di dollari nel 2020. La casa personalizzata di Will e Jade è situata in una tenuta di 60 acri. La casa è piuttosto impressionante anche perché tutta la sua struttura è stata costruita a mano. Oltre alle sue nuove camere da letto, lo studio di registrazione all'avanguardia, la sala di meditazione e molti angoli segreti, la casa personalizzata a tema marocchino dispone di un'enorme piscina, un campo da basket completo, un campo da tennis, tre buche da golf, un grande pascolo e un lago. Tom Cruise Immersa nelle montagne di Telluride, Colorado, la spaziosa tenuta di 120 acri di Tom Cruise è valutata 59 milioni di dollari. Sul terreno si trova la sua villa di 929 metri quadrati, con finestre a tutta altezza nel soggiorno che offrono una spettacolare vista panoramica sulle montagne. La villa, che il famoso attore ha aiutato a progettare, ha 7 camere da letto, 9 bagni, una sala di ricreazione, una biblioteca personalizzata e una palestra. La proprietà comprende anche una guest house, una pista di motocross privata, campi da basket, tennis e hockey, stalle e un eliporto privato. Brad Pitt e Angelina Jolie Nel 2008 la coppia era conosciuta come Brangelina. Ha comprato Chateau Miraval, un castello e un vigneto nel sud della Francia, per l'equivalente di 67 milioni di dollari o circa 80 milioni di dollari oggi. La villa principale ha 35 stanze, un eliporto, piscine interne ed esterne, una sala giochi, un cinema in casa e altri servizi comuni ai super ricchi. All'esterno c'è un percorso per bici da cross, un giardino con un olivo di 200 anni e, come tutti i buoni castelli, un fossato. I vigneti alimentano Miraval Wines, il cui rosè è molto ricercato. George Clooney Nel 2002 George Clooney ha comprato una tenuta all'aglio in Italia chiamata Villa Oleandra, dalla famiglia Heinz per 10 milioni di dollari. La villa, situata sulle rive del lago Como, vale attualmente ben 100 milioni di dollari. Costruita durante il XVIII secolo, la proprietà è ora una miscela perfetta del suo fascino originale e tutte le comodità moderne. Ha 10 camere da letto, 8 bagni, una piscina all'aperto, un teatro all'aperto, campi da tennis, una palestra completamente attrezzata e un garage dove Clooney tiene la sua vasta e costosa collezione di moto d'epoca. George Lucas George Lucas, famoso regista, iniziò ad assemblare quello che sarebbe diventato Skywalker Ranch nel 1978, l'anno dopo l'uscita di Star Wars. Ha acquistato la proprietà di 1902 Acre per circa 100 milioni di dollari. Non è la residenza primaria di Lucas ed è spesso usata come luogo di lavoro per Skywalker Sound. La proprietà è nota per includere diversi edifici, il lago Ewok, un vero ranch funzionante, una collezione d'arte di livello mondiale, un teatro da 300 posti, una biblioteca separata a due piani, una piscina all'aperto, un parcheggio sotterraneo da 200 posti, un fiorente giardino e vigneti. Come descriveresti la tua casa dei sogni? Non vediamo l'ora di avere le tue notizie. Grazie per aver passato un po' di tempo con noi. Se ti è piaciuto questo contenuto, per favore metti un mi piace e iscriviti al nostro canale per futuri video. Non vediamo l'ora di sentirti. Grazie per aver guardato un po' di tempo.